Nuova tappa nel cammino di avvicinamento a Brasile 2014, venerdì, sono stati rivelati i prezzi dei biglietti. I tifosi in arrivo dall'estero dovranno pagare un minimo di 69 euro per la fase a gironi. I prezzi per i padroni di casa invece saranno decisamente più abbortabili, 12 euro. L'ex stella di Milan e Roma, Cafu, bicampione del mondo con la Selesao, ha fatto la sua parte nello stemperare le molte polemiche. Salite dopo le proteste per la Confederations Cup. Sentiamo Cafu. La Confederations Cup ha mostrato al mondo quello che siamo capaci di fare noi brasiliani. La situazione nel paese è molto delicata, ma siamo in grado di ospitare un evento come la Confederations Cup che ha dato grande felicità al nostro popolo, sia calcisticamente che dal punto di vista organizzativo, di esperienza. Dimostra a tutto il mondo che quando il Brasile ci si mette ce la può fare. Insomma, possiamo fare tutto quello che ci pare. I toni trionfalistici, che sembrano venire da un'altra era a un altro tempo, sono replicati dal ministro dello Sport Luis Fernandes, che rimanda seccamente al mittente le dichiarazioni di Sepp Blatter, che si sarebbe forse pentito di aver scelto il gigante sudamericano come organizzatore dei mondiali 2014. La FIFA ha già chiarito tutto, non c'è bisogno di commentare ancora i fatti, storia finita. Possiamo confermare che il rapporto rilasciato dal ministero dello Sport l'altro ieri dimostra che i numeri che la stessa FIFA ha pubblicato in Brasile dimostrano l'incredibile successo della Confederations Cup. Questo non fa altro che confermare e provare che il Brasile è il paese giusto per ospitare i mondiali di calcio nel 2014. I numeri, insomma, sono chiari. Stiamo seguendo perfettamente la tabella di marcia che ci porterà al mondiale dell'anno prossimo. Gli organizzatori provano a far dimenticare le massicce proteste di poche settimane fa. Vedremo se il tappeto sarà abbastanza ampio per nascondere così tanta polvere.